Una notizia shock dalla sanità italiana, 32.500 posti letto in meno. Ma cosa significa per noi? Come influenzerà questa riduzione l'accesso alle cure mediche nelle vostre regioni? Il recente report rilasciato dal Forum delle Società Scientifiche dei Clinici Ospedalieri e Universitari pone in evidenza una crisi significativa nel settore sanitario causata dai continui tagli finanziari. Negli ultimi dieci anni, il sistema sanitario italiano ha perso 32.500 posti letto e ha visto la chiusura di 95 strutture sanitarie. Queste cifre non sono solo numeri, ma rappresentano una realtà allarmante che potrebbe compromettere la capacità di offrire cure adeguate a tutti i cittadini, specialmente in un contesto di invecchiamento della popolazione. Le ripercussioni di tali tagli sono immediate e severamente sentite, tempi di attesa più lunghi, accesso limitato a servizi essenziali e una pressione crescente su quelle strutture che rimangono operative. Qual è la tua opinione su questo argomento cruciale? Commenta qui sotto. In alcune regioni, specialmente quelle meno servite, il disagio è ancora più marcato. Il Forum ha lanciato un appello urgente per un rinnovato investimento nel settore, sottolineando l'importanza di garantire che le cure rimangano accessibili e di alta qualità. Non perderti nessun aggiornamento su temi importanti come questo. Iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche. Ma la domanda resta. Ci saranno le risorse e la volontà politica per invertire questa tendenza? Questo è tutto per oggi. Grazie per averci seguito. Continuate a riflettere e a cercare la vostra verità. Alla prossima! Grazie per aver guardato il nostro corso gratuito. Grazie per aver guardato il nostro corso gratuito. Grazie per aver guardato il nostro corso gratuito.